ecco che ce n'è uno che ho visto che ha le uova questa è la sacca delle uova però c'è anche quella della sabbia questa qua sporca allora in questo caso bisogna non prenderli da vicino alla testa perché altrimenti prenderesti quella delle uova allora si prende più al centro si prende direttamente dove si vede il filo nero si prende solo quello perché c'è anche quello del c'è anche quella delle uova a fianco e prendi solo quello del filo nero e lasciamo quello delle uova perché queste poi nella cottura sono buonissime da mangiarle dare il gamberone anche più gustoso ecco fatto abbiamo tolto solo la sacca della sacca della sabbia poi il solito taglietto taglietto va sempre nella cresta non troppo grande tanto della grandezza per togliere la sacca anche questa faccia le uova quindi togliere solo quello nero eccolo qua solo quello nero l'altro si lascia perché perfetto le uova sono un buonissimo ecco fatto una risciacquattina ecco fatto con le uova perfetto alla prossima